Dunque, non ho sentito bene perché il microfono di Gianni era lontano. Spero che mi stiate sentendo e che stiate vedendo le diapositive. Sì, le vediamo. Dalle diverse condizioni di acuzie e nei diversi setting. Ovviamente, tutti voi sapete l'amicizia trentennale, personale, professionale, familiare che mi ha legato ad Alessandro. E questa è una caricatura che ci avevano fatto nel 2003, quando appunto eravamo nel pieno della campagna di promozione sulla DHD e stavamo appunto terrorizzando, in quel momento erano i pediatri italiani, sulla importanza della diagnosi e della terapia della DHD. Quindi, molta acqua è passata sotto i ponti, altra ne sarebbe potuta passare, comunque questa è la situazione. La situazione è tale per cui la prospettiva, oggi abbiamo sentito parlare spesso di una parola che è la parola comorbidità. La parola comorbidità ha uno scarso significato, quantomeno è misteriosa, no? Se non la collochiamo in una prospettiva che è una prospettiva di sviluppo, in quanto diventa semplicemente un miscuglio di malattie e quasi tutti i pazienti che hanno un'età evolutiva hanno più malattie. E questo aspetto è appunto curioso da spiegarsi perché la sfortuna certamente non può essere questa. Se lo collochiamo in una prospettiva di sviluppo e definiamo le traiettorie attraverso le quali la DHD, ma così ogni altro tipo di disturbo, si interseca con altri, troviamo questi agglomerati o comorbidità che possono essere codificati sia attraverso queste traiettorie anterograde che facciamo noi, ma anche attraverso le traiettorie retrograde che fanno i psichiatri degli adulti. E questo può essere appunto un territorio interessante per definire su un piano di realtà, sia clinico che di ricerca, il concetto di transizione. E quello che vedete laggiù sotto è, e lo vedremo più tardi, che a volte è più importante che fare una diagnosi di malattia è fare proprio una diagnosi di traiettoria, cioè vedere il percorso che ha portato quel paziente, il percorso personale, ma anche il percorso clinico che ha portato quel paziente a quel tipo di disturbo. E a seconda del tipo di percorso, il tipo di disturbo sarà diverso, anche se la diagnosi categoriale è apparentemente simile. In questa storia la DHD ovviamente è molto importante, perché? Perché è alla base di molti disturbi, sia nella sfera dei disturbi dirompenti, sia della sfera dei disturbi affettivi. Inizia e poi le comorbidità si sovrappongono nel tempo. La DHD diventa parte di un quadro clinico più complesso, apparentemente può essere più nascosto, a volte può essere anche non la componente più importante, ma quello che è fondamentale, che vedremo ora, è che la sua presenza all'interno del quadro clinico continua a esercitare un'influenza, non solo sul piano del rischio, non solo sul piano dell'espressività, ma anche sul piano delle strategie terapeutiche. E noi possiamo riconoscere questa componente praticamente solo se entriamo in una logica di traiettorie evolutive, di ricostruzione, di costruzione e ricostruzione di queste traiettorie, sia negli psichiatri degli adulti che negli psichiatri dell'età evolutiva. Qui abbiamo messo ad esempio tre possibili agglomerati, no? Uno è la DHD nella partenza, da solo, ma spesso, come vedremo, commisto con altri disturbi del neurosviluppo, e questa commistione, i disturbi del neurosviluppo quasi mai vengono da soli, ma quasi sempre sono in associazione tra loro e questa associazione è proprio nel concetto e nella definizione stessa di disturbi del neurosviluppo, è persistente nel tempo e spesso penetra nell'età adulta. Poi abbiamo un secondo agglomerato, che è quello, come vedremo, dei disturbi lassù del piano alto, dei disturbi affettivi, disturbi d'ansia, la depressione, il disturbo bipolare, gli disturbi di personalità, l'uso di sostanze, e quel piano intermedio, che è il piano forse prevalente in termini quantitativi, che è quello dei disturbi del comportamento, della condotta, con il rischio e il fantasma dell'evoluzione antisociale. Sono situazioni frequenti questi tre aspetti, come vedete, un 50% sui disturbi dirompenti, un terzo sui disturbi affettivi, e una quantità che probabilmente va dal 30 a 40% per quello che riguarda i disturbi del neurosviluppo. C'è poi una quarta realtà, ma quella la vedremo brevissimamente al termine, ve la lascio come sorpresa. E questa storia è una storia, come abbiamo detto, che ha una proiezione lifetime, nel senso che la DHD aumenta il rischio di quasi tutto negli adulti, e la conoscenza di queste radici nella DHD, nella patologia che gli adulti vedono, è un'informazione irrinunciabile nella loro prassi clinica. Nel nostro ambito la DHD fa una serie di cose. La prima cosa è che aumenta il rischio, come ha detto poco fa Sara, che un disturbo si manifesti al suo interno. Il secondo è che questo disturbo esordirà più precocemente. La terza implicazione è che l'evoluzione sarà un'evoluzione più grave e persistente. E la risposta ai trattamenti in queste forme con la DHD sarà peggiore. L'elemento che caratterizza queste forme è che probabilmente la presenza della DHD conferisce a queste forme uno statuto di fenotipi clinici specifici, cioè avere un bipolare con la DHD o senza, avere un disturbo ossessivo con la DHD o senza, avere un disturbo della condotta con la DHD o senza, sono realtà diverse. E poi l'elemento fondamentale che è un po' il convicato di pietra delle domande che ci stiamo facendo oggi è ma se io posso intercettare e trattare con efficacia questi pazienti in un'epoca più precoce, posso influenzare positivamente le traiettorie evolutive che probabilisticamente questi pazienti potrebbero avere? Un primo aspetto riguarda la componente del rapporto all'interno dello sviluppo, un elemento oggi di grandissimo interesse e nelle realtà dei pronto soccorso e delle acuzie questa realtà è una realtà molto frequente, quella di ragazzini con disturbo dello spettro autistico che hanno una DHD e la DHD aumenta fortemente il rischio che una condizione che potrebbe essere una condizione grave ma di relativo equilibrio vada in una situazione di discompenso. I dati su questa enorme sovrapposizione sono ben noti, questo lo analizza da un punto di vista teorico, biologico, clinico eccetera con questi developmental pathways vedete che sono condivisi tra questi disturbi con delle stime epidemiologiche che sono delle stime epidemiologiche importanti e anche questa la voglio ricordare perché Sara la conosce bene è stata un'allieva di Alessandro che poi ora è da tanti anni che sta a New York che ha studiato proprio questa realtà della sovrapposizione e non è una sovrapposizione a sé stante, come vedete, vedete la colonna blu sono quelli che hanno la DHD più l'autismo, hanno delle caratteristiche particolari perché? Perché il rischio di avere i disturbi dirompenti del comportamento in quelli che hanno a DHD più autismo è molto maggiore rispetto a quelli che hanno la patologia singola. I disturbi dell'umore sono molto più frequenti in quelli che hanno a DHD più autismo, i disturbi multipli d'anze sono molto più frequenti in quelli che hanno a DHD più autismo. Quindi questa traiettoria è una traiettoria che caratterizza poi anche la disregolazione emotiva anche la disregolazione emotiva è molto più frequente in quelli che hanno a DHD autismo come vedete la colonna blu rispetto a quella rossa cioè è un pattern a DHD più autismo che rappresenta una condizione particolarmente complessa questo è un altro aspetto che non è, se noi considerassimo quelli che hanno a DHD più autismo come persone sfortunate che anziché avere una malattia sola ce ne hanno due non avremmo capito molto del concetto di psicopatologia nell'età evolutiva come vedete questi sono una serie di pazienti con ADHD che hanno oltre ad avere le caratteristiche delle ADHD hanno, non tutti sono così ma una parte hanno delle alterazioni nella capacità di interpretare in maniera corretta le relazioni con gli altri, ad esempio di avere una corretta teoria della mente di mettersi nella prospettiva dell'altro e questa di avere un'adeguata empatia e questa componente qui è una componente importante e questi sono un po' a metà strada tra gli ADHD, gli autistici e quelli che sono un pochino più spostati verso l'ADHD verso l'autismo troveremo quelli che hanno in questo continuum che caratterizza i rapporti tra i nostri disturbi noi troveremo persone che hanno e se io questo aspetto lo so, so che questi pazienti con ADHD alterazioni sociali, della coniezione sociale li posso individuare presto e come tali posso agire su di loro questa è un'altra associazione importantissima, negletta perché tutto quello che riguarda la disabilità intellettiva è negletto e soprattutto perché le persone che hanno disabilità intellettiva qualsiasi disturbo che abbiano, e questa è la loro condanna viene attribuita alla disabilità intellettiva e la disabilità intellettiva è una specie di buco nero che assorbe tutte le possibili comorbidità, incluse quelle con l'ADHD cioè perché uno è agitato, impulsivo, non sta fermo un attimo urla ed ha delle disregolazioni beh, c'è la disabilità intellettiva, non quello può avere anzi, i soggetti con disabilità intellettiva possono avere tutti i disturbi 5-6 volte più degli altri questo è l'esempio dello storico studio di Marco Ratt che fa vedere che i psichiatri sono 5 volte più frequenti nella disabilità intellettiva tutti, incluso l'ADHD e i soggetti con ADHD devono essere ricercati e spesso i disabili intellettivi che accedono ad un pronto soccorso o che sono in uno stato di acuzie e di supacuzie l'elemento che scatena questo è un sottostante ADHD che non viene riconosciuto e nei disabilità intellettivi ancora meno di quanto non venga riconosciuto negli altri proprio per questo motivo a volte anche il mal di denti non viene riconosciuto nei disabili intellettivi soprattutto se hanno anche autismo e questo percorso diagnostico dovrebbe essere particolarmente attento nei soggetti con disabilità intellettiva questa invece è la terza componente la disregolazione emotiva che non è un disturbo del neurosviluppo inserito nel DSM-5 ma è fortemente un disturbo del neurosviluppo è un disturbo del neurosviluppo di quelle capacità di autoregolazione emotiva che molte persone hanno come altre hanno difficoltà evolutive nello sviluppo del linguaggio, del movimento, delle funzioni esecutive o delle relazioni sociali alcuni ce l'hanno sulla disregolazione emotiva e ovviamente anche nell'ambito dell'ADHD un sottotipo è quello degli ADHD con disregolazione emotiva sono bambini che sin da piccoli hanno un'emotività particolarmente intensa un'intolleranza alle frustrazioni una reattività molto intensa delle oscillazioni facili un arrivo dell'ansia, dell'impulsività, della sensibilità a giudizi degli altri tutti questi elementi frequentemente si sovrappongono all'ADHD il 40% degli ADHD hanno questi aspetti ma soprattutto l'elemento interessante di questi ADHD che hanno la disregolazione emotiva cioè quindi questa sovrapposizione del neurosviluppo così precoce sono quelli che anche hanno una maggiore persistenza per cui se noi andiamo a vedere gli adolescenti con ADHD la percentuale di adolescenti con ADHD che avranno una disregolazione emotiva sarà più alta rispetto a quello dei bambini o quantomeno più evidente e questo ovviamente è alla base di molte diagnosi errate un adolescente con ADHD e con delle caratteristiche dirompenti che ha anche una disregolazione emotiva può portare verso diagnosi errate disturbi bipolari, disturbi della personalità, disturbi depressivo ed anche verso trattamenti errati laddove invece un trattamento dell'ADHD in questi pazienti potrebbe essere o in prima battuta o in seconda battuta particolarmente importante quindi l'emotional dysregulation noi la possiamo vedere in ragazzini che continuano a essere ADHD e disregolati anche in adolescenza e in età adulta ma possono essere anche ragazzini che evolvono attraverso la disregolazione emotiva verso la depressione la DHD con disregolazione emotiva e io la DHD con disregolazione emotiva lo posso riconoscere in un bambino a 6, a 7, a 8 anni e se individuo in quel ragazzino con ADHD la presenza di una disregolazione emotiva la possibilità che mi si aprano dei percorsi successivi io la posso in qualche modo anticipare per certi versi prevenire o quantomeno riconoscerla tempestivamente questo è per esempio quello che accade con la depressione nella depressione non tutti gli adolescenti i bambini e gli adolescenti con ADHD diventano depressi la maggior parte diventano demoralizzati che è tutta un'altra cosa un 20% diventano depressi e quei 20% che diventano realmente depressi ed hanno anche una DHD possono essere ragazzini per i quali l'accesso al pronto soccorso è particolarmente importante per un motivo che citava poco fa anche Sara cioè il fatto che la DHD è un predittore che aumenta il rischio di comportamenti autolesivi sia in popolazioni cliniche che in popolazioni nella popolazione generale e avere prima la conoscenza di un paziente che è depresso e che ha la DHD non solo mi consente di anticipare questa situazione ma se io mi arrivo a un paziente in pronto soccorso con la depressione e con mediazione suicidaria la possibilità che abbia una DHD e quella DHD con la sua impulsività e la sua disregolazione possa essere il fattore scatenante lo devo tenere presente posso però avere anche altri percorsi verso il disturbo bipolare per esempio questa è una cosa ben nota la possibilità che soprattutto nelle forme ad esordio precoce io possa avere una DHD che nel tempo si complica con un disturbo bipolare sono forme come vedete queste più precoci tipicamente ad esordio precoberale ma soprattutto vedete dalla parte di sotto se io ho una ragazzino che io so che ha un disturbo bipolare e una DHD la possibilità che possa sviluppare successivamente un disturbo della condotta è praticamente doppia rispetto a quegli altri quindi è un percorso che mi si delinea davanti di rischio che io posso anticipare perché è importante questo? è importante perché? perché se io ho vedete questa è la diagnosi di traiettoria io ho un paziente bipolare e posso ricostruire tre traiettori diverse una traiettoria che parte dalla DHD una traiettoria che non mi parte dalla DHD ma mi parte dagli disturbi multipli d'ansia e una traiettoria che invece è una traiettoria per cui questo ha uno sviluppo bipolare senza avere dei percorsi antecedenti sono tre situazioni cliniche come vedete sulla destra sono chiaramente differenziate l'una rispetto all'altra dal punto di vista clinico dal punto di vista evolutivo dal punto di vista delle modalità di espressione e dalla risposta ai trattamenti e soprattutto vedete anche in questo studio con un rischio enormemente più elevato che questi pazienti possano sviluppare un'ulteriore più grave complicazione che è quella del disturbo della condotta sono questi e questi sono bambini e che diventano adolescenti particolarmente gravi guardate un po' come sono fatti questa è la terza colonna la colonna del disturbo della condotta con i bipolari vedete questi sono ragazzini che hanno un'età media di 13 anni più o meno due se andate laggiù in fondo col cerchio in fondo vedete che due su tre avevano la DHD ma soprattutto la metà avevano già avuto un contatto diffuso e stabile con le sostanze quindi questo mi si delinea come percorso che io non mi trovo a 14 anni o a 13 anni cadendo dal pero ma me lo trovo in un percorso che ho potuto delineare anticipatamente non solo ma questo percorso mi può portare anche verso l'uso di sostanze e disturbi della personalità guardate questo studio interessante che fa vedere che cosa succede della DHD in termini di disturbi della personalità nella giovane età adulta quello che posso aspettarmi è che l'aumento del rischio è prevalentemente sul disturbo borderline che vedremo ora e sull'antisocial ma non tutti i soggetti a DHD diventano borderline quelli che hanno la DHD e basta non lo diventano quelli che hanno la DHD con la disregolazione emotiva lo diventano molto di più 17% quelli che hanno la DHD e anche il disturbo positivo provocatorio mi diventeranno ancora di più questo percorso quindi che mi porta a fare una diagnosi a 20 anni di disturbo da 16 a 18 disturbo borderline è un percorso che è partito presto e se io vedo che questa DHD mi si complica con l'emotional dysregulation sin dall'inizio e successivamente con un disturbo oppositivo provocatorio devo stare particolarmente attento perché questi saranno ragazzini particolarmente a rischio quindi come vedete c'è un percorso evolutivo che parte dalla DHD con l'emotional dysregulation arriva a un disturbo affettivo che ha maggiori rischi di aggressività e di impulsività che ha maggiore rischio non minore come vedete scritto lì di uso di sostanze ha maggiore rischio di condotte autolesive ed è un fenotipo particolare quindi è un percorso che io posso avere nella testa che io posso avere nella testa e che posso andare a ricercare non solo nel singolo paziente mentre lo seguo in maniera prospettica ma anche nel paziente che mi arriva nel pronto soccorso in maniera retrospettiva e che ha delle caratteristiche diverse rispetto agli altri questo è e questi per esempio sono pazienti questo è un tipo di intervento un intervento di BT che su questi pazienti che hanno questo percorso qui è particolarmente importante volevo completare la mia presentazione con questa che è la parte centrale dell'ADHD cioè degli ADHD che evolvono verso disturbi del comportamento è particolarmente importante questa evenienza perché? perché l'ADHD non solo anticipa l'esordio di queste forme come lo fa per tutti ma aumenta il rischio che un disturbo positivo mi divenga un disturbo della condotta e quando e soprattutto che questo disturbo della condotta esordisca precocemente se io ho un ADHD con disturbo della condotta questo è un sottotipo particolarmente grave che io mi trovo nella storia evolutiva di questi pazienti e posso vedere se quando compaiono questi sintomi se compaiono prima dei dieci anni come dice il DSM questo è un sottotipo particolarmente grave quello che esordisce dopo i dieci anni è più è meno grave avere l'ADHD aumenta fortemente la possibilità che l'esordio sia prima dei dieci anni vedete questo studio ne l'avevamo fatto addirittura sui dodici anni e sui dodici anni trovavamo che i bambini che avevano un disturbo della condotta ad esordio prima dei dodici anni tre su quattro avevano l'ADHD se mettessimo dieci anni troveremmo il cento per cento cioè l'ADHD è un predittore di un esordio particolarmente precoce quindi prognosticamente particolarmente grave io però in questi pazienti posso avere alcuni pazienti che hanno queste caratteristiche di disturbo della condotta di disturbo oppositivo di disturbi dirompenti ma che sono emotivamente molto molto intensi molto carichi molto reattivi molto emotivi molto rabbiosi e questi pazienti che hanno questa cosa che è in questo cerchio rosso che hanno la componente oppositiva la componente della DHD e l'emotional dysregulation spesso evolvono sconfinano verso la parte alta di questi percorsi evolutivi l'ansia la depressione il disturbo bipolare hanno disturbi del comportamento ma disturbi del comportamento particolarmente caldi guardate questi sono pazienti che hanno queste caratteristiche con la DHD e il disturbo positivo ma in cui la disregolazione emotiva li porta molto verso l'autoaggressività verso comportamenti autoaggressivi sono pazienti particolarmente caldi e pericolosi da un punto di vista della loro tipologia sono quelli messi sulla destra sono pazienti con disturbi del comportamento caldi e molto sofferenti molto diversi sono questi qua all'interno dello stesso gruppo io invece posso avere ragazzini che hanno la DHD su dei lompenti ma non sono così emotivamente intensi carichi eccetera ma sono ragazzini che sin dai 6 7 8 9 anni hanno scarse capacità di espressione emotiva scarsa capacità di esprimere senso di colpa scarsa capacità di esprimere empatia lo possono avere su base ambientale su base genetica su base quello che vogliamo ma io posso vedere che già 7 8 9 anni io avrò un ragazzino con la DHD o con un disturbo del comportamento non caldo sofferente rabbioso iper emotivo iper reattivo ma piuttosto freddo con scarso senso di colpa con scarsa capacità di provare sofferenze sulle sofferenze che induce negli altri bambini con scarsa empatia ovviamente la diagnosi è la stessa ma la malattia è completamente diversa è diverso dal primo questo è il secondo tipo di tipologia e hanno dei percorsi questi ovviamente molto diversi se io vedo un paziente di questo tipo cosa mi aspetto non che vada verso il piano alto ma rimanga sul piano intermedio il disturbo della condotta e soprattutto il disturbo antisociale di personalità cioè una scarsa capacità di provare emozioni di manipolare gli altri di utilizzare gli altri per ottenere dei propri vantaggi mentre quelli che hanno l'aggressività calda non avranno nessun vantaggio dalla loro aggressività queste sono persone che vittimizzano gli altri hanno il controllo sulle altre persone e da questo punto di vista sono particolarmente pericolosi uno potrebbe dire beh ma se sono così che ci posso fare questi sono due studi questo e soprattutto questo che fanno vedere che se io questi ragazzi li intercetto presto e a 8, 9, 10 anni riesco a fare su di loro un intervento che è un intervento psicoeducativo psicoterapeutico familiare ed ambientale intensivo alcuni anche prendono dei farmaci posso intercettare il percorso non del disturbo della condotta ma anche del tratto calloso anemozionale cioè di questa scarsa capacità empatica ovviamente io questi pazienti li devo intercettare presto e quindi devo avere dei dispositivi diagnostici ma soprattutto nella testa che mi consentono di capire che esistono ragazzini di questo tipo e questi ragazzini se io li tratto con degli interventi intensivi adeguati sono ragazzini che possono modificare queste caratteristiche temperamentali vedete anche qui c'è un percorso che è se vogliamo lo potremmo considerare come una stadiazione del rischio stadiazione del rischio vuol dire che io posso avere ragazzini che hanno una DHD e allora mi preoccuperò abbastanza o ADHD che hanno una DHD con un disturbo positivo provocatorio e allora mi preoccuperò di più però posso avere ragazzini che transitano verso un altro livello che è la DHD con il disturbo della condotta e su questi mi preoccupo molto di più se però questi sono ragazzini che hanno una DHD un disturbo della condotta e gli è esordito molto precocemente mi preoccuperò estremamente di più e se io avrò invece un ragazzino che oltre ad avere la DHD il disturbo della condotta ha anche i tratti inemozionali mi preoccuperò enormemente tutto questo nella testa ce lo posso avere come elemento di un percorso evolutivo ovviamente il ruolo dei fattori psicosociali è importante ma altrettanto e forse ancora di più è importante la diagnosi e un intervento precoce perché come abbiamo visto prima questi sono ragazzini sui quali io posso fare qualcosa se questo percorso ce l'ho nella testa naturalmente questo percorso io me lo posso trovare in un paziente che mi arriva in un pronto soccorso o che mi arriva in un setting di acuzie o di subacuzie se io ce l'ho nella testa uno che mi arriva in questo modo posso quantomeno sondare queste caratteristiche ma queste caratteristiche io le avrei potute anche avere nella testa con strumenti che sono facilmente gli strumenti per fare queste caratterizzazioni cliniche non sono la PET o la risonanza magnetica funzionale ma sono degli strumenti clinici che possono essere utilizzati in un qualsiasi contesto e che soprattutto possono essere utilizzati se uno nella testa ha questo questo tipo di modello questo è uno studio che fa vedere un studio molto bello abbiamo siamo fatti quella domanda all'inizio ma se io intercetto questi pazienti precocemente riuscirò a influenzare le traiettorie a distanza è una domanda che uno direbbe sì ok perché è bello dire sì non lo sappiamo in realtà perché non sappiamo se io intercetto un ragazzino con ADHD lo tratto bene se questo ha minori rischi di diventare bipolare io per esempio ho qualche dubbio su questo certamente non gli farà male avere una diagnosi precoce ma non è detto che questo gli riduca il rischio su alcune cose invece sì questo è uno studio molto importante prospettico fatto con un livello a 6, 8, 10 anni con un primo livello di rianalisi a 18 e un altro a 25 che fa vedere che un trattamento con metilfenidato può avere su questi pazienti un effetto preventivo anche a lungo termine sull'uso di sostanze su quest'ambito qui la possibilità di influenzare i percorsi evolutivi è piuttosto piuttosto intensa abbiamo detto quindi io vorrei sottolineare questo aspetto che oltre a definire le traiettorie abbiamo visto anche degli snodi evolutivi se io ho un ragazzino con l'ADHD un disturbo positivo provocatorio se ha 8 anni o a 7 o a 6 o a 9 io intravedo per esempio delle caratteristiche di emotional disregulation io posso ipotizzarmi nella testa dei percorsi evolutivi che vanno probabilisticamente in una certa direzione piuttosto che nell'altra e se ci l'ho nella testa analizzare la storia di questo ragazzino per vedere se quel percorso lo prende o no abbiamo parlato dell'emotional disregulation che è l'argomento di cui noi negli ultimi anni ci occupiamo quasi in pieno negli anni precedenti ce l'avevamo occupati invece in pieno dell'altro del tratto calloso anemozionale e abbiamo visto che a seconda che un ragazzino con l'ADHD un disturbo positivo un disturbo della condotta abbia delle caratteristiche di emotional disregulation o un tratto calloso anemozionale i suoi percorsi possono essere diversi ma questo è importante che lo sappia anche se lo veda a 15 anni se all'uno o all'altro stiamo studiando anche degli altri questo è ve lo faccio vedere la possibilità di individuare dei tratti narcisistici nei ragazzini di 7, 8, 9 anni perché anche questo nei ragazzini che hanno disturbi del comportamento ADHD con disturbo positivo provocatorio delinea dei percorsi evolutivi che sono ancora diversi più internalizzanti che esternalizzanti da questo punto di vista questo è uno strumento che abbiamo tarato e questo è uno studio longitudinale che ci fa vedere da che parte vanno questi tipi di ragazzini con questi tipi quindi sono tutti specificatori personologici e temperamentali che in qualche modo io posso avere antecedentemente per poter fare degli interventi preventivi ma anche per anche per riconoscerli quando mi arriva per dire ma non ci avrà mica questo non ci avrà mica questo non ci avrà mica quest'altro e questo certamente mi dà delle informazioni utili anche retrospettive anche se vedo quello di vent'anni l'ultimo pezzettino che proprio sono tre parole è così concludo credo nei tempi è quello del trauma del trauma perché perché è nota la frequente associazione non la chiamerei comorbidità perché mi fa sorridere dire l'associazione tra comorbidità e ADHD però è molto più è molto non è assolutamente rara quello vedete sull'associazione il gruppo di appunto di Steven Faraone Joe Biderman di Harvard di cui parlava poco fa anche Sara sui meccanismi che per cui è particolarmente è frequente che un ragazzino a ADHD possa andare incontro a eventi traumatici ma anche vedete al child maltreatment questo è uno studio di popolazione sul maltrattamento vorrei questa i meccanismi possono essere vari possono essere che un comportamento disturbante tipico della ADHD favorisce nella classe nel gruppo sportivo nella parrocchia esperienze di emarginazione cioè sono talmente rompipalle che la gente li mette da una parte perché poi questi sono impulsivi e l'impulsività aumenta comportamenti a rischio che possono avere un impatto post-traumatico c'è un elemento neuro-psicologico soprattutto negli adolescenti la scarsa capacità neuro-psicologica delle loro funzioni esecutive di prevedere pienamente le conseguenze delle proprie azioni favorisce il crearsi di situazioni di rischio la disregolazione emotiva che spesso questi ragazzini hanno aumenta la loro sensibilità alle esperienze traumatiche il fatto che molti di questi ragazzini hanno necessità di gratificazioni immediate il tempo e quindi loro tendono a fare cose le sostanze le dipendenze in senso generale sono legate al fatto e tutto questo aspetto crea delle condizioni per cui come vedete gli ADHD questa è una modifica di un altro tipo di diapositiva ma fa vedere che l'ADHD se è sottoporso a stressors ambientali più facilmente degli altri l'ADHD è una vulnerabilità che amplifica l'impatto degli stressors ambientali verso l'uso di sostanze verso le dipendenze comportamentali verso disturbi del comportamento ma anche verso l'ansia sociale perché una parte degli ADHD si chiudono sono quelli che si mettono chiusi in una stanza a stare con un computer dalla mattina alla sera e questo rapporto tra ADHD e traumi è un elemento che sicuramente dovrebbe essere e questa è la diapositiva che forse riassume tutto cioè perché abbiamo abbiamo delineato queste traiettorie perché se uno ce l'ha nella testa queste cose le vede la differenza tra guardare e vedere è questa se io le cose ce l'ho nella testa le ritrovo nella realtà se non ce le ho nella testa nella realtà non le trovo nemmeno se ci sbatto il naso sopra e questo per pazienti come quelli di cui stiamo parlando oggi è veramente veramente importante grazie grazie